John Borno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Continua imperterrita la corsa del Liverpool verso la Premier League, la storica Premier League, quella che insomma sarebbe una Premier League da incorniciare. Io vi ricordo che se questo video dovesse raggiungere i 6.000 mi piace, rifacciamo la sfida, 6.000 mi piace ragazzi e vi porterò il pagellone del girone d'andata per quanto riguarda la Premier League. 20 partite ne hanno giocato e comunque più o meno siamo lì, ecco oggi giocavano Liverpool e Sheffield, diciamo che era una gara molto pro forma nel senso che anche i giatori dello Sheffield erano venuti perché affrontavano il Liverpool, nel senso lo Sheffield in sé non mi ha mai dato l'impressione di poter mettere in difficoltà seriamente il Liverpool, poi tutti i meriti vanno dati allo Sheffield perché è una bella squadra, perché è una squadra rodata, perché sta dimostrando tanto, però ragazzi anche i tifosi dello Sheffield non li ho visti incazzati in realtà, anzi vi vedo se si facevano i selfie con la coppa, si facevano i selfie con i giocatori del Liverpool da die, quindi nel senso era molto festa, ok? Quando tu vai affrontare il Liverpool specialmente a Downfield Road sai bene o male che la sconfitta la porti direttamente da casa, arrivi con la sconfitta già in tasca. Il Liverpool che continua a vincerle tutte, pensate che questi ragazzi in venti gare ne hanno vinte 19, hanno pareggiato solamente con il Manchester United, quindi sono praticamente una macina che non vuole assolutamente saperne di fermarsi. Uno Sheffield comunque che sulla carta non era assolutamente un avversario semplice da affrontare, perché poi arrivava con la buona stagione fatta fino a questo momento, perché che se ne dica, lo Sheffield ha fatto una stagione di tutto rispetto fino ad oggi, ha fatto una stagione con i controcoglioni, e in ogni campo che va, su ogni campo che vai, in ogni gara che è impegnata, lo Sheffield comunque caccia la scienza, lo Sheffield comunque dà fastidio agli avversari, non è quella squadra diciamo da affrontare in modo piuttosto agevole. E questo ovviamente Klopp lo sapeva, infatti non fa nemmeno un accenno di turnover, nonostante il Liverpool stia giocando ogni tre giorni e avrà ancora e ancora e ancora diversi impegni. Quindi diciamo anche che Mohamed Salah oggettivamente avrebbe voluto chiudere il primo tempo tranquillamente con una doppietta, tripletta, nel senso il portiere dello Sheffield è molto bravo, molto spesso a parare, molto spesso a farsi trovare pronto, però è mancato un po' quel frizzicchio di Mohamed Salah, perché altrimenti nel primo tempo, oggi avremmo visto, a fine più tempo avremmo visto tutt'altro risultato. Non voglio andare a screditare troppo gli ospiti, però secondo me ragazzi se Salah avesse un po' più spinto sull'acceleratore ci avesse perduto un po' di più, probabilmente oggi la gara si sarebbe chiusa molto molto prima. Poi che cosa gli vuoi dire? Fa un gol Salah nel primo tempo, un gol Mané nel secondo tempo, un gol per tempo si archivia la gara, quindi il Liverpool è bene o male, la gara poi la porta a casa in modo anche piuttosto facilitato. Tra l'altro io credo ragazzi che la forza, la vera forza di questo Liverpool, il Liverpool di Klopp, il Liverpool che negli anni ha sempre più preso piede fino ad essere una favorita strafavorita in tutte le competizioni che affronta, sia questo modo pirotecnico di giocare di Klopp, cioè 1-2 palla rapidamente in avanti, che mi piace veramente tanto, non è un caso se i giocatori come Salah e Firmino hanno fatto la differenza e tutto molto spesso, che giochi o che non giochi, ovviamente io parlo di quando gioca, si ritrova in Bobby Firmino, perché il non avere una punta centrale, il non avere un Lukaku, il non avere un Icardi, che molto spesso può essere un'arma a doppio taglio, beh, spesso anche aiuta, nel caso del Liverpool ha aiutato veramente tanto, perché se il centravanti viene penalizzato a livello di realizzazione, che poi manco troppo, perché poi Firmino di base è uno che segna tanto, beh, le due ali ne approfittano in un modo assurdo e vanno in gol con una facilità veramente, veramente rara. Oggi i tifosi dello Sheffield, ve lo ripeto, erano venuti giusto per guardare la gara, giusto per dare un'occhiata alla propria squadra, sapendo comunque che avrebbero affrontato dei campioni pazzeschi. Oggi altro clean sheet del Liverpool, che ormai di prendere gol proprio non ne vuole sapere, se non erro ha preso un gol nelle ultime otto gare, ragazzi, un gol in otto gare sono veramente, veramente pochi, sto parlando ovviamente del campionato e del mondiale per club, o escluso, ci mancherebbe altro, la gara di Coppa di Lega, dove il Liverpool ha preso un altro allenatore, altri 20 giocatori che non c'entravano niente con il Liverpool e li ha messi in campo, e hanno preso una goleada, ma ci mancherebbe altro, se poi nel calcio non riescono a mettersi d'accordo, che a uno che fanno già la partita del 18, un altro pure il 18, è normale, poi una in America, c'è una in Qatar, una in Inghilterra, è normale che poi è difficile riuscire a far coesistere un po' tutto, che poi qualcuno mi ha detto, vabbè sì, ma bastava dividere in due le gare e il Liverpool tranquillamente avrebbe abbassato il Flamengo e l'altro Liverpool tranquillamente sarebbe passato al turno successivo, sì, però tu, giocatore di qualunque caratura, anche che tu sia Orighi per dire che comunque è fortissimo, fortissimo, però non è titolare, mettiti un po' nei panni di Orighi, beh, io penso che Orighi voglia vincere il Mondiale per Club, magari anche non giocando, che poi ha giocato, però magari anche non giocando, però se tu non giochi comunque il Mondiale per Club lo vinci, se non parti per la spedizione nel curriculum, nel palmarès, scusate, più che nel curriculum non ti entra proprio, e sinceramente io dubito che un calciatore di qualunque caratura preferisca farci una partita di Coppa di Lega inglese, qualunque, piuttosto che il Mondiale per Club, il Mondiale per Club per quanto poi concretamente poco possa importare a noi per un calciatore è veramente, veramente tanto, cioè avere l'essere campione del Mondiale per Club per un calciatore, la coppa intercontinentale, la vecchia coppa intercontinentale che tanto faceva sognare, è un trofeo comunque di grande lustro. Con questa vittoria il Liverpool vola a più 13 sul Leicester, io tengo sempre come riferimento il Manchester City perché per quanto mi possa piacere il Leicester, per quanto abbiamo capito che il Leicester non sia un fuoco di paglia, comunque io non credo che il Leicester riesca ad insidiare il Liverpool per lo scudetto, credo che se il Liverpool dovesse sbarellare un po' a destra, un po' a sinistra, la squadra a mettersi tra il Liverpool e lo scudetto sia il Manchester City, quindi prendo sempre il City come riferimento, e il City dista 14 punti, raga 14 punti sono veramente tanti, significa che 5 partite deve perdere il Liverpool e il Manchester City deve vincerle tutte, questo vuol dire per dire che il City deve vincere 18 su 18 quelle rimaste e il Liverpool deve vincerne 13 su 18 e 5 perderne, beh già pensare che il City le vinca tutte è veramente difficile, può essere ma è veramente difficile, pensare poi che il Liverpool perda 15 punti per strada mi sembra ancora più difficile, guardando appunto in questo momento la squadra di Klopp, che tra l'altro è una squadra ragazzi che ha fatto, ripeto, 19 vittorie, un pareggio e 0 sconfitte, quindi sono davvero impressionanti, hanno fatto 49 reti, non sono il miglior attacco del campionato, perché poi c'è il Manchester City che se non sbaglio ne ha fatti 54, 55 ne ha fatti veramente tanti, però ne hanno subiti 14, che all'inizio sembrava che insomma potessero subire anche con una frequenza abbastanza importante, poi hanno trovato stabilità e allora non ce n'è stato più per nessuno, non che il Liverpool abbia mai subito troppo, però all'inizio sembrava che un golletto ogni tanto gli si potesse anche fare, quando il Liverpool aveva il risultato acquisito un pochino sarenava, invece adesso proprio in completo controllo della situazione, praticamente non gli sfugge nulla, e questa è una cosa che veramente mi lascia sempre di giornata in giornata estere fatto, tra l'altro ora il Liverpool, e questo sarà un test importante a mio modo di vedere, affronterà in FA Cup l'Everton, entrambe le squadre, se è il Liverpool che lo Sheffield danno l'FA Cup, l'FA Cup è comunque un trofeo molto importante per le squadre inglesi, non è come la Coppa di Lega, l'FA Cup ragazzi è l'FA Cup, quindi difficilmente verrà sottovalutato questo trofeo, e il Liverpool affronterà l'Everton in quello che è il derby di Liverpool, e sarà un derby super sentito, perché che se ne dica l'Everton ragazzi non esce mai, e sottolineo mai, a testa bassa, poi magari ne prende 4 e questo non possiamo saperlo, però 1 con Carlo Ancelotti la situazione è cambiata da così a così, e non mi sorprenderà se l'Everton facesse la sorpresina a Liverpool, 2 è un derby, e i derby ragazzi sono imprevedibili, sempre sono imprevedibili, e punto 3 ancora più importante, il Liverpool punta lo Scudetto, il campionato della Premier League, e la sta vincendo, il Liverpool punta la Champions, e comunque può farcela, però ragazzi il Liverpool punta anche all'FA Cup, io credo di sì, cioè credo che in questo momento, dopo che Klopp ha fatto la finale di Europa League, poi ha fatto la finale di Champions, poi ha vinto la Champions, adesso, e il mondiale per club adesso, ovviamente l'obiettivo, credo sia la Premier League, che manca da diversi anni, Klopp sta per entrare ufficialmente nella sfera del club, però dall'altra parte, credo anche che fare il famoso triplete, il famoso trouble, com'è che si chiama, il vincere tutto, insomma, sia un po' il sogno erotico di Klopp, se lo sogna nell'erto, quindi nel senso, penso che difficilmente il Liverpool andrà a sottovalutare l'Everton, inoltre settimana prossima, e questo probabilmente sarà il test più importante, il Liverpool affronta il Tottenham sul campo degli Spurs, un Tottenham che non può più perdere terreno, un Tottenham che questa settimana ha perso malamente, malamente non per il risultato, ma per quello che è maturato, nel senso che tu non potevi perdere punti, invece hai proprio perso tutti e tre i punti, quindi Mourinho vorrà rifarsi, e il Liverpool arriva con una fragilità mentale importante, perché sta giocando ogni tre giorni, giocherà dopo aver giocato tre giorni prima, e tre giorni ancora prima, questa contro lo Sheffield e poi contro l'Everton, e qui se non sbaglio, e quindi insomma anche lì quando sai il 9, il 10, quel che è, non sarà affatto facile per il Liverpool trionfare sul campo degli Spurs, non sarà affatto facile trionfare sul campo del Tottenham, quindi anche là voglio vedere se l'imbattibilità del Liverpool si prolungherà, e rimarrà tale. Detto questo vi ricordo tra l'altro, che domani uscirà il video dei 10 momenti fondamentali, dei 10 momenti shock, dei momenti più importanti degli ultimi 10 anni, nel nostro campionato, quindi della decade, 2010, 2011, 2012, fino al 2009, quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati, perché ora di pranzo, 12.30, 13, vi posterò quel video, e poi ovviamente un altro mercato che farei, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, qualora non l'aveste già fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, buon cittadino all'Alene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video. a presto! Grazie a tutti.